Si chiama Costa Blu, il nuovo servizio di bike sharing a stazioni fisse dei comuni di Montesilvano e Silvi. Nel comune della provincia Terramana saranno tre le stazioni attive, la prima nei pressi del Palazzetto dello Sport, la seconda presso la stazione Ferroviaria, l'ultima vicino alla foce del torrente Cerrano, alle porte dell'area marina protetta. Quest'anno partiamo in maniera sperimentale i comuni di Silvi e Montesilvano, in attesa del tratto di Città Sant'Angelo che sta per essere terminato. Sicuramente saremo propensi ad allargare il servizio fino ad arrivare a Pescara. Un progetto di mobilità sostenibile importante che può unire il nostro territorio con gli altri comuni, ma soprattutto farsi veramente una passeggiata, lasciare la bici a Montesilvano o a Pescara potrebbe veramente soddisfare le esigenze di molti turisti. Questo è un progetto che potrà anche in futuro vedere l'intera costa Terramana, perché comunque anche con gli altri comuni della costa Terramana stiamo portando avanti moltissimi progetti sull'ambiente e dunque è veramente un primo passo non solo per i cittadini, ma soprattutto per i tanti turisti che sceglieranno le nostre aree. Adesso però c'è da mettere a sistema tutte queste piattaforme, nel senso che bisogna collegare i comuni nel miglior modo possibile. Sì, questo è l'obiettivo a lungo termine, diciamo, che però è raggiungibile perché il comune di Città Sant'Angelo, che ha sbrigato le pratiche degli espropri, partirà presso con i lavori e quindi poi finalmente avremo il collegamento diretto tra Silvia e Montesilvano. A Montesilvano invece sono sette le postazioni dislocate sull'intero territorio comunale, con l'obiettivo di aumentare l'offerta riguardante la mobilità sostenibile, soprattutto in vista dell'estate. Ci sono tanti motivi per cui rallegrarsi oggi, uno di questi è che ampliamo un'offerta di mobilità sostenibile sul nostro territorio, allargato, come dicevi bene, ai territori limitrofi. Sono contento che Silvia abbia risposto, insomma, anche all'appello lanciato dalla nostra amministrazione, che è partito con questo sistema di bike sharing. è un sistema di mobilità sostenibile, di collegamento tra i territori, divertente, salutare e sostenibile. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti affinché si possa essere davvero felici oggi.